Appuntamento qua sopra, al borghetto, qui sotto ci sono gli antichi terrazzamenti agricoli. Tutt'ora c'è una parte di terreno, qua di terrazzamento agricolo, intestata anche a mia nonna e mia madre, figlia unica. Questi adesso sono in disuso, però questi erano seminati fino a 50 anni fa. Poi vado e faccio un'escursione e una descrizione dettagliata. Sono tutti stratificati a gradoni con i muri di contenimento. Osserviamo il magnifico panorama di Lucco De Marzi. In grandiscola fotografia e in bonte si vede Celano, le montagne di Celano. Giro e giro qua. Vabbè, adesso proseguo qua sopra e vado verso le grado, piano piano. Osserviamo la parte alta. Tutto ossicido, veramente, aria fresca.